e sì non sempre le cose vanno per il verso giusto questo penso che ne sia la testimonianza e quindi ragazzi oggi vi racconto cosa è successo dopo un mio acquisto su amazon nella fattispecie ragazzi un acquisto fatto presso un rivenditore su amazon quindi non è un prodotto venduto e spedito da amazon quindi hanno un semplice negozio su amazon avevo effettuato l'ordine venduto e spedito da amazon ma le tempistiche erano di due mesi essendo una scheda madre per aumentare la rama del mio computer e future modifiche di processore scheda grafiche eccetera ho scelto di annullare l'ordine del 2 febbraio e rivolgermi a questo venditore suggeritemi stesso da amazon che riusciva a consegnarmi la scheda il 13 di febbraio 2024 perché non so in che anno sta avendo questo video e quindi materialmente mi consigliano questo venditore faccio l'acquisto e con mia immensa gioia mi anticipano i tempi di consegna esattamente ieri giorno 8 oggi è 9 febbraio quindi ricevo il prodotto io di mattina provvedo a smontare tutto il mio computer e avevo condiviso questa fotografia vi faccio vedere in community poi l'ho tolta perché non aveva più di tanto senso essendo che voglio condividere con voi il tutto attraverso un video quindi smonto tutto ricevo la scheda di cui vi mostro la scatola che trovate anche in descrizione se volete acquistarla sempre da amazon però venduta e spedita da amazon ragazzi non prendete da venditori terzi o insomma state attenti anche leggete un po le recensioni cosa che io a essere onesti non ho fatto però insomma mi sono fidato mi arriva il prodotto apro il pacco carta pacco con pluriball e noto già la prima magagna quindi state molto attenti la scheda non presenta alcun sigillo sulla confezione apro il prodotto avvolto nella sua busta antistatica non presenta lo scotch che va a chiudere il lembo di questa busta e già lì insomma un pochettino ero titubante però guardo il contenuto della confezione c'era unica visata era tutto imballato e il manuale però presentava dei fogli in diverse lingue con un foglio strappato in alto su un bordo il manuale sembrava già sfogliato insomma sentivo puzza pochettino di scam o di incu può essere guardo la scheda appoggiandola sulla confezione e vedo questo vi mostro la fotografia bene sì il bordo inferiore destro rispetto ai banchi di ram era distrutto non è stato il corriere perché la confezione comunque non presenta danni tali da provocare appunto questo danno bene il venditore in sostanza mi ha venduto un prodotto usato e danneggiato oltretutto quindi cosa faccio apro amazon vado sui miei ordini e faccio la richiesta di reso in prima battuta riceverete sempre essendo un venditore terzo un'etichetta simile a questa che vi mostro fatto un facsimile modificando le vandi dati del negozio e poi sotto un altro foglio con il riepilogo del vostro acquisto quindi sostanzialmente questa etichetta voi potete ricorrere un corriere o alle poste e spedire il vostro pacco cosa assolutamente da non fare ragazzi perché paghereste le spese di rientro del prodotto e dopodiché il negoziante valuterà se rimborsarvi totalmente o effettuare una sostituzione quindi non utilizzate questa etichetta alla luce di questo mi sono fatto chiamare da amazon che per chi non lo sa c'è il servizio clienti potete chattare o farvi chiamare quindi mi faccio chiamare spiego la situazione e gentilmente la signorina di amazon scrive al negoziante spiegando che io voglio un'etichetta di reso prepagata con poi il successivo rimborso inizia la chat col negoziante che non si mostra proprio disponibile perché mi dice guarda il prodotto è nuovo mandami la foto della scatola infatti quella che vedete è la foto che ho fatto al negoziante a cui ho allegato anche la foto del danno per essere precisi e il seriale riportato sulla confezione mando queste fotografie e lui se ne esce con la proposta di tu prova a alimentare la scheda se funziona ti faccio un reso parziale io lì sbroccato un attimino infatti registro il video dopo un giorno perché ora sono tra virgolette tranquillo in pace zen all'incirca e io rifiuto ovviamente questa proposta perché poi mi dice comunque la scheda resta in garanzia 24 mesi presso il nostro negozio io non avendo più fiducia nel negoziante perché mi sarei aspettato ti stiamo mandando una nuova scheda ci scusi ancora per il disagio rifiuto questa offerta mi sembra normale e riscrivo nuovamente via chat chiedendo l'etichetta prepagata da parte loro e il rimborso totale e non danno seguito a questa chat ora potevo contattare di nuovo amazon e far valere i miei diritti attraverso la garanzia dalla a alla z ma ho preferito reperire il numero del negozio fisico e contattarli io ho spiegato la situazione lamentandomi appunto della mancanza di serietà del negozio e finalmente ho ottenuto un etichetta di reso anzi un ritiro a casa con lo stesso corriere che mi aveva consegnato ieri la scheda e poi il successivo rimborso poi vedremo quanto mi faranno penare per riavere i miei soldi però questo video perché per mettervi in guardia da queste situazioni in caso di venditore terzo quindi c'è di mezzo sia amazon per il pagamento ma voi dovete rivolgere al negoziante quindi non utilizzate assolutamente l'etichetta non prepagata da parte di amazon che è una semplice etichetta con i dati del negozio le informazioni dell'ordine quindi l'id del vostro ordine da mettere dentro il pacco perché andreste a pagare le spese ispezione e non sempre vi vengono rimborsate poi dal negoziante quindi esigete un etichetta di reso prepagata se non è disponibile vi fate mandare il corriere come ho fatto io a casa e poi nel caso in cui il negozio non vi rimborsa mi sembra ci sono tempi tecnici di cinque dieci giorni come scritto nell'eventuale regolamento che vi arriva nell'etichetta di amazon contattate nuovamente amazon mi fate chiamare e la garanzia a z vi proteggerà rimborsandovi totalmente poi loro se la vedono con il negozio quindi spero che non vi troviate in questa situazione però in caso agite come segue perché una cosa è venduto e spedito da amazon un'altra è presso venditore terzo io ho acquistato nuovamente la scheda quindi in questi giorni mi dovrebbe arrivare all'incirca lunedì o martedì mi sembra che il 12 quindi andrò a verificare anche questa vi farò sapere queen community quindi iscrivetevi così potete seguire la vicenda e nulla ragazzi questo piccolo vlog per mettervi in guardia su queste piccole disavventure che avvengono su amazon e commerce secondo me fantastico perché comunque o di poppa o di prua come si suole dire siete protetti perché comunque di mezzo c'è amazon e non siete abbandonati io infatti lo preferisco comunque ebay dove l'assistenza comunque tutto sommato vi aiuta non a livello di amazon ma vi aiuta quindi ragazzi occhi aperti state attenti su che etichetta utilizzate nel caso per qualsiasi dubbio fate come ho fatto io fatevi contattare da amazon perché proprio la signorina di amazon mi ha aiutato e messo in guardia sul discorso dell'etichetta dicendomi guarda così pagheresti tu il reso del prodotto invece ora chiediamo un'etichetta prepagata o un ritiro comunque con lo stesso corriere che ti ha consegnato il prodotto quindi occhi aperti se volete acquistare anche voi questa scheda asus rog la trovate qui sotto in descrizione in più c'è tutta la lista della mia attrezzatura io vi ricordo che ho l'affiliazione amazon quindi a voi non cambia nulla ma a me viene riconosciuta una piccola fee per i vostri praticamente acquisti io sono tenuto a dirlo perché amazon ci tiene e mi sembra pure giusto dirlo ma sotto in descrizione comunque c'è scritto e nulla ragazzi io vi ringrazio per aver visto anche questo video vi ringrazio anche per il supporto che state dando in generale al canale e anche al corso gimp per gli appassionati di grafica trovate il corso in descrizione e noi come sempre ci vediamo e ascoltiamo che magia vedersi e ascoltarsi e tutto attraverso questa fantastica piattaforma in un prossimo video ciao è stato accorto step one wake up early gon' rise in the sun step two get some good some food in you step three you grow hard about what you wanna be step four everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day